Il corpo senza vita di Angelo Seruttono, un giovane 19 anni, è stato rinvenuto nel lago di Bracciano, a largo di Anguillara a Sabazia. Questa è la triste notizia comunicata questa mattina dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma attraverso un comunicato stampa. Il giovane appena maggiorenne era scomparso nelle acque del bacino sabatino lo scorso giovedì 29 giugno. Oggi il team dei sommozzatori dei vigili del fuoco ha ritrovato il suo corpo in via Reginaldo Belloni, proprio sul lungo lago principale di Anguillara a Sabazia. Il corpo si trovava a una distanza di circa 300 metri dalla riva.